Benvenuti nella galassia Rattix. Questa Peugeot 208 1,2 PureTech 75CV Active è l'auto perfetta per chi cerca un'auto compatta, agile e moderna. Questo modello usato, ma in eccellenti condizioni, ti offre una guida confortevole e sicura per tutti i tuoi spostamenti quotidiani. Immatricolata a dicembre 2020, questa Peugeot 208 è alimentata a benzina con un motore da 75 cavalli, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Il suo colore, bianco banchisa, dona un aspetto fresco e moderno, mentre il cambio manuale e la trazione anteriore ti offrono pieno controllo alla guida. Ha percorso 21.136 km certificati. Non lasciarti sfuggire questa occasione.